Io non so. No, Reg, questo è stato tu, eh. Questa è colpa tua. No, Bezzi, è segnatissima. Come faccio io che guidavi te? No, Bezzi. Rovinarla così. Eh, forse è colpa mia, allora. Bezzi, è da cambiare. Cioè, è da riverniciare sta macchina. Ho io la soluzione. Sì. Dopo ve lo dico. Però è da riverniciare. Sì, però ho io la soluzione. Fidatevi di me. Mi fidatevi di me. Allora, signori, ho trovato un annuncio molto interessante. Si chiama Sbam Livret, il non più s'ultra delle personalizzazioni per auto. Io chiami lei. Facciamoci questa call. Allora, affidiamoci. Very good. Chiama subito. Chiamiamo. Pronto? Salve. Allora, noi avremo una Yaris grigia, dovremo fare una livrea la più incazzata come solo voi sapete fare. Ve la portiamo? Oggi? Dai. Oggi, già, oggi. Dai, andiamo. Bello, 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 bello. Let's go. Dai. Attenzione. Le seguenti riprese sono effettuate da persone abilitate al maneggio delle armi, in un regolare poligono di tiro autorizzato. Sì, guarda, guarda, qua viene un bel cagotto di pitture. Lo aggiungiamo dolcemente. Non ti preoccupare. Opla. Allora, cerchiamo di fare un lavoro. Bello e fatto in fretta. Ok. Voglio qualcosa di artistico e creativo. Ok. Palloncino enorme in alto a destra. Va bene. Direi perfetto. Adesso, secondo la mia tabella dell'armocromia, devi sparare in basso a destra. Provelo dalla portiera. Dai, mi soddisfa. Portiera a sinistra. In alto? No, in basso. In basso, ok. Non hai messo a te quello verde vomito? E beh, era un colore molto moderno. Andiamo a vedere da vicino. Va bene. Max, c'è un problema che non avevamo calcolato. Il cazzo di buchi. Perché non ci hai pensato, come al solito. Eh, hai ragione. E adesso che cazzo facciamo? Eh, adesso... Idea. La riempiamo di creatività. Va bene. Ci sto. Vai Max, facciamo un secondo carico, già che ci siamo. Beh... Boh. Finiamo il lavoro con la pittura e poi diamo fondo alla creatività. Ti lascio divertire un po', Max. Vai. Molto bene. Bene. Mancano le ultime spennellate. Bacca, hai dimenticato il montante. Cosa hai buttato? Questo! Sì! Grazie a tutti. Beh, beh, beh. Assistente, io sono soddisfatto del lavoro. Beh, è uniforme e creativo, quello sicuro. Sì, molto creativo. Però penso sia il momento di fuggire alle nostre responsabilità. Sì, forse non è una cattiva idea, visto quello che è successo. Diamoci alla macchia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.